Ingeride Cesare, c'è grande felicità per la sabitosa vittoria della Sidigas contro Milano, grandi emozioni in una domenica caratterizzata anche da tanti incontri con i tifosi del calcio e anche da un incontro nel dopogaro con il rappresentante della Lega, Basket. Sì, fa piacere ovviamente moltissimo la vittoria che è stata soprattutto del pubblico e della squadra. Fa moltissimo piacere vedere un ambiente così compatto, così unito, deciso a supportare i propri beniamini. Lei sa benissimo che in questi giorni si è letto e si è scritto di tutto sulla situazione della Sidigas, soprattutto dopo la sua intervista alla Gazzetta dello Sport. Cosa è cambiato rispetto a quelle dichiarazioni? C'è da preoccuparsi per il doppio filone del basket della Scandone e della Calcio Vino S.S.D.? Non è cambiato niente, nel senso che la situazione è quella che ho rappresentato e si sta lavorando con molto impegno per far sì che quella che è una situazione temporanea venga risolta. Situazione temporanea legata a cosa? Quali sono i fatti che hanno determinato questa uscita allo scoperto da parte di De Cesare che forse pochi si aspettavano? L'uscita allo scoperto è dovuta a una questione di rispetto. Considero sia il basket sia il calcio non come una proprietà privata ma come una proprietà di tutti quanti, come se fosse praticamente una quotata in borsa. E quindi ho preferito immediatamente informare tutte le persone coinvolte di quelle che erano le circostanze che erano attraversate in quel momento. Lei stava parlando con il suo gruppo per superare questa problematica. C'è una scadenza, una deadline che possiamo già dire anche ai tifosi del calcio e del basket che sono preoccupati per tutte queste continue voci? No, non ci sono scadenze precise ma sicuramente si sta lavorando e soprattutto è una questione legata a un fatto specifico con una sua precisa fisionomia, identità legata al momento. Non è certo una questione di degrado o di peggioramento della situazione aziendale, tutt'altro. Anzi, al contrario, l'attività va particolarmente bene in controtendenza rispetto sia al settore nel quale operiamo sia in generale al settore economico. Dalle sue parole si emince che non c'è crisi per quanto riguarda la Sidigas ma queste problematiche come si sono manifestate così all'improvviso oppure si tratta anche di un periodo di difficoltà che nasce da lontano anche forse da qualche errore dal punto di vista di gestionare? No, è una problematica specifica, ripeto, che non interessa l'attività direttamente esercita dalla Sidigas che al contrario invece va particolarmente bene, mostra numeri in crescita continua così come si è verificato praticamente in maniera costante negli anni scorsi. Ora parliamo dei due ambiti, della Scandone da una parte e del calcio avvenendo dall'altra parte. Partiamo dalla Sidigas avvenendo dalla Scandone il 3 gennaio, è stato convocato in Lega per chiarire questa questione anche per far capire a tutti com'era l'attuale situazione della Scandone. Sì, è una riunione che è stata convocata in maniera del tutto analoga a quanto avvenuto in passato anche recente, per esempio con Cantù. Quanto si potrà risolvere questa situazione legata a Young? È preoccupato per l'inchiesta della Procura federale con la possibilità purtroppo anche di una penalizzazione del club bianco-verde? Tutte le inchieste ovviamente vengono seguite con attenzione e preoccupano, però noi abbiamo la coscienza di aver operato correttamente. Dal basket al calcio, durante l'intervallo della partita con Milano, ha incontrato una rappresentanza della Curva Sud. a una risposta naturalmente anche ai interrogativi dei tifosi che naturalmente leggendo le notizie degli ultimi giorni si sono preoccupati dei debiti, dei numeri, delle cifre che sono uscite che riguardano la gestione della Scandone e della Sidicas in particolare. Cosa ha detto ai tifosi del calcio? Intanto i rapporti sono ovviamente di correntezza, anzi fa piacere constatare quanto compatto sia il supporto che tanto il basket sia il calcio ricevono dal proprio pubblico. E poi non c'è una questione di debiti in particolare, come accennavo, ma è una questione di un problema molto specifico, non legato all'esistenza di particolari debitori. Un problema che si chiama per equazione? No, è un problema specifico, sarebbe anche non interessante perché è una questione piuttosto specifica, quindi credo sia non di interesse. Tornando al mondo del calcio, naturalmente sa benissimo che tra qualche giorno si aprirà il calcio mercato e i tifosi si aspettano investimenti importanti per recuperare i sette punti dalla vetta, per vedere un Avelino vincente facendo tesoro degli errori di questa prima parte della gestione che sicuramente sono sotto gli occhi di tutti. È nostra intenzione cogliere l'opportunità. Cosa significa? Quanti interventi si opereranno sul mercato? Si opererà sul mercato per riportare l'Avelino in alto? Può assicurare i tifosi in tutto questo aspetto? Allora, c'è tutta l'intenzione di intervenire e di fare la parte nostra. Questa è la parte che compete più direttamente la società e quindi anche il sottoscritto. Poi tecnicamente non sono la persona più adatta ovviamente per poterne parlare. Tornando ad agosto, rifarebbe la scelta di entrare nel mondo del calcio? Assolutamente sì, ci credo ancora. Ci credo ancora nella polisportiva che era stata anche una delle ipotesi che era stata paventata in estate? In particolare nella polisportiva. Si immaginava però di vivere questo momento di difficoltà con un'eco-mediatica molto più ampia? L'eco-mediatico ovviamente fisiologico nel momento in cui si ha la fortuna, l'opportunità di gestire delle attività che come dicevo prima sono patrimonio di tutta quanta la provincia, non solo della città, di tutta quanta la provincia. Quindi è fisiologico che sia così. Lo aspettavo? Beh, mettendomi ovviamente la cenere in testa devo dire che non ho fatto tutto quanto avrei dovuto, quello che avrei potuto fare per prevenirlo. Quindi fa una recita o mea colpa rispetto a quello che purtroppo non è andata per quanto riguarda il calcio l'Unione S.S.D.? Preferisco sempre pensare che la colpa sia del sottoscritto piuttosto che delle circostanze. Tornando sempre al punto del calcio, negli ultimi giorni si è detto, si è parlato di un eventuale addio di De Cesare, della possibilità di lasciare la società bianco-verde. C'è qualcosa di vero oppure sono soltanto invenzioni, voci, messe in giro per destabilizzare anche l'ambiente? Al momento non c'è nulla di vero. Non ho mai contattato nessuno, nessuno degli imprenditori di cui si è parlato sui giornali e anche sui siti? Non sono mai stato contattato e soprattutto non ho mai pensato neanche minimamente di dover sollecitare qualcosa del genere. Una delle ultime domande poi la lascerò andare, naturalmente ringraziando per la sua disponibilità. Oggi abbiamo vissuto una bella pagina di sport, è quella che è l'immagine più bella, quella legata alla vittoria. Naturalmente questo da un lato le impone ancora di più scelte anche oculate per mantenere la Serie A e la Scandone a alti livelli e per riportare dall'altro lato il mondo del calcio, il calcio avellino nel calcio che conta. Ancora uno stimolo in più per lei, anche una sollecitazione in più rispetto anche a un momento di difficoltà dal punto di vista aziendale. Lo è per tutti quanti noi, tutti noi che lavoriamo in azienda, abbiamo tutti quanti questa ferma intenzione, è la stessa, è rimasta la stessa di quando intraprendemmo questa attività. Lo stimolo è quello, l'intenzione è rimasta lo stesso, quella di tentare di fare del nostro meglio perché il basket e magari anche il calcio occupino il posto che meritano nel panorama in cui si trovano a operare. Voglio tornare alle sue prime dichiarazioni quando ha detto stiamo lavorando per superare questa problematica che è legata normalmente a una fase di contingenza della Sidigas. Non ci ha detto i termini, anche i tempi entro i quali sarà risolta questa problematica, ma i tifosi che ci stanno seguendo in questo momento, i tifosi del basket e del calcio, cosa si sente di dire in genere di Cesare che in questo momento mantiene le reddine di tutte e due le società? Non ho un messaggio particolare, sicuramente mi sento di dire grazie per il supporto enorme che è stato ricevuto in questi giorni, in queste partite. Sono convinto che Magna Pars del risultato è dovuto al supporto enorme che è stato dato dal pubblico alla squadra sul campo. Dal 3 gennaio si aprirà una pagina importante, l'incontro in Lega Basket per la questione Young e dall'altro lato, come detto, il mercato del calcio. Si aprirà anche un periodo di riflessione e valutazioni senza commettere gli errori che lei ha menzionato in precedenza. Sì, ripeto, c'è tutto l'impegno ovviamente a che intanto si rimedi alla questione in modo da poter portare tutto avanti nella migliore delle maniere. Siamo qui proprio apposta per partecipare alla riunione del 3 e faremo tutto quello che c'è da fare per. Intanto si gode la prima sconfitta di Milano proprio sul parcheggio della palla del Mauro, anche una vittoria che vale tanto per tutto quello che è successo nelle ultime settimane. Preferirei dire godiamoci la vittoria nostra, non la sconfitta di Milano.